Il pasticciaccio delle slot nasce la sera di martedì in commissione bilancio al Senato. Si stanno votando i tantissimi emendamenti al decreto sugli enti locali, il cosiddetto Salva Roma. Tra le tante modifiche viene approvata la norma della discordia, quella che punisce per i minori introiti le regioni che pongono limiti più severi alle concessionarie di macchinette da gioco. A presentarla la senatrice Federica Chiavaroli del nuovo centrodestra, ma l'emendamento viene votato a tutta la maggioranza. Il giorno dopo, mercoledì, il testo arriva in aula e l'emendamento viene approvato. Il governo ha dato parere positivo, la maggioranza segue l'indicazione. Tutto secondo copione, in sedute del genere si approvano decine di emendamenti all'ora. Ma poco prima del voto, in aula interviene il socialista Riccardo Nencini, che parla di contraddizione tra la volontà di combattere la dipendenza da gioco e un testo che invece punisce le regioni che più si danno da fare in questo senso. Me ne ero accorto poco prima, racconta Nencini, avevo avvertito i colleghi del PD. Mi è stato detto che sul testo c'era un accordo. Poi saranno i 5 Stelle a denunciare lo Stato cravattaro, termine romano per strozzino, parola del senatore Endrizzi. Ma alla fine il decreto viene approvato con tanto di modifica contestata. Il caso scoppia però il giorno dopo, ieri, con le accuse del leghista Maroni e la dura presa di distanza di Matteo Renzi, che parla di porcata, a cui segue l'annuncio di una correzione del testo alla Camera. Ma come è stato possibile, si chiedono tutti. Dal PD parlano di grave colpa, ma non di dolo. Una sorta di omesso controllo da parte di chi in commissione bilancio avrebbe dovuto subito bloccare l'emendamento. Si dà la colpa ai tempi ristretti. Il decreto deve essere approvato entro il 29 dicembre e deve ancora passare alla Camera. Alla valanga di emendamenti, non sempre eletti con attenzione, alla mancanza di senatori esperti nelle trappole parlamentari. Da parte sua, la senatrice Chiavaroli, autrice della norma incriminata, respinge decisamente le accuse di lobbismo e spiega il mio emendamento è una norma tampone per un problema che ci è stato segnalato dai monopoli di Stato. Se comuni e regioni fanno normative stringenti nei confronti di chi ha già ottenuto le concessioni, si rischia di ingenerare un contenzioso fra lo Stato e i concessionari. Non la raccontano tutti giusta. E' ovvio che c'è stato un vento favorevole a che ci fosse questa norma e che arrivava sicuramente da chi cura gli interessi dei grandi concessionari e distributori di slot machine e affini. Soltanto che, come sempre, è difficile trovare le tracce per far diventare all'indicativo ciò che noi raccontiamo.